E le inchieste tornano ad agitare la maggioranza di Maio 5 Stelle, ribadisce la scelta è tra noi e la nuova tangentopoli. C'è un'emergenza enorme dalla Lega Salvini, commenta fiducia nei miei uomini e nei magistrati. Alessandro Gamberi. Io credo che ormai sia chiaro ed evidente che c'è un'emergenza corruzione enorme in questo paese con una tangentopoli bis che stiamo vedendo nelle inchieste che si susseguono ormai ogni giorno nelle ultime tre settimane e dico anche che domenica prossima, 26 maggio alle europee, la scelta è tra noi e la tangentopoli bis. A Firenze per un convegno su imprese e tecnologie Di Maio lo ribadisce, con Siria abbiamo messo un punto e di fronte alle indagini che coinvolgono purtroppo tutti i partiti, in calza non possiamo arretrare.